La chiesa, una comunità. La cattedrale. Luca abita in un piccolo paese. Oggi è andato a visitare una grande città. Al centro di essa si erge una chiesa gigantesca, la cattedrale. Luca è stupito. La chiesa del suo paesino è piccola. Sembra solo una grande stanza. Quindi io ho una grande casa, dice Luca. Certamente a questa gente vuole più bene. Lo credi davvero? Nella mia storia le cose sono molto diverse. In quale storia? Nella storia del paese senza chiesa. Naturalmente Luca vuole ascoltare subito la storia. Il paese senza chiesa. Quel paesino di montagna era molto povero. I contadini possedevano solo campi molto piccoli e impervi. Erano dei campi che si arrampicavano su per le montagne. Tutto doveva essere fatto a mano. Non era facile come nei paesi di pianura dove è facile coltivare perché il terreno ha tutto un livello. Lì le colline, le montagne facevano che i campi anche si arrampicavano sopra. E non era facile. Non era facile coltivarli. Quindi tutto doveva essere fatto a mano. Ciò comportava molta fatica e poco guadagno. Erano molto poveri questi contadini. Una volta nel paese c'era una piccola chiesetta bellissima. Piccolissima ma bellissima. Era fatta tutta di legno. Come una piccola baita di montagna. Ma purtroppo una candela che non era stata spenta bene la incendiò. E questa piccola bellissima chiesa è stata completamente bruciata dalle fiamme. Da allora lì dove sorgeva la chiesetta c'era una piazzetta vuota. E la gente all'inizio nella bella stagione si era riunita ancora lì per pregare per la messa. C'era un piccolo altare. Ma poi con l'inverno, le piogge, la neve era diventato impossibile riunirsi in quella piazzetta all'aperto per pregare. E così la gente si riuniva ad ascoltare la messa in un'aula della scuola. Perché in quel paesino c'era anche una piccola scuola. Il paese era così piccolo che un'aula poteva contenere tutti i suoi abitanti. Naturalmente alla gente sarebbe piaciuto avere una nuova chiesa. Ma purtroppo una chiesa costava molti soldi per costruirla e loro erano anche povera gente. Non avevano tanti soldi. Ma un giorno una signora, una signora anziana che non aveva dei risparmi, ha deciso di lasciare in eredità tutti i suoi risparmi al paese per la costruzione di una nuova chiesa. Quindi aveva pensato adesso io sono molto anziana, alla mia morte, ha fatto un testamento, lascerò tutto per costruire una chiesetta per i miei concittadini, per i miei amici della parrocchia. E così è successo e ha lasciato tutti i suoi averi per la costruzione della chiesa. Proprio in quel periodo la gente però, accendendo la televisione e guardando il telegiornale, aveva ascoltato una notizia che in una regione vicina alla loro c'era stato un terribile terremoto e tutti, su tutti i giornali apparivano immagini spaventose. Tante case crollate, bambini che non potevano, non avevano più la loro cameretta, la loro casa, addirittura anche la scuola del paese era crollata. E poi vedevano che erano tanti paesini, ma erano paesini poveri come il loro, quindi povera gente che erano rimasti proprio senza nulla. Loro ancora il loro paese ce l'avevano, anche se non avevano la chiesa. Così hanno pensato di devolvere tutto quanto quello che avevano risparmiato, quello che avevano ricevuto in dono da questa signora, per aiutare questi vicini, questi paesi vicini che avevano subito il danno del terremoto, perché hanno pensato che era più urgente che costruire una nuova chiesa. E come possiamo costruire una chiesa, dicevano, ora che c'è tanta gente in miseria che ha bisogno di un tetto sulla testa? E così detto fatto hanno mandato tutti quei soldi ai terremotati. Però non avevano dimenticato il loro obiettivo di costruire una chiesa nel loro paese, perciò hanno continuato a risparmiare. Ci vuole tanto tempo, tanto tempo, però finalmente hanno raccolto i soldi necessari per poter iniziare i lavori della chiesa. Ma a quel punto, sempre al telegiornale, hanno sentito un'altra notizia. Aiutate i profughi! Chi sono i profughi? Sono persone che scappano dalla guerra e non possono più stare nella loro città, perché lì è scoppiata una guerra, oppure un'epidemia tante volte. Nessuno vuole accogliere i profughi dell'Asia? Stava scritto sul giornale e loro, che erano persone povere ma molto buone e sapevano che potevano aiutarli perché avevano risparmiato ancora dei soldini per costruire la loro chiesa, hanno deciso di pensare a come fare per aiutare i profughi. Come possiamo costruire una chiesa quando ci sono tutti quei profughi senza patria, senza la loro città? E senza pensarci due volte hanno preso tutti quei soldi. E si sono, sapete cosa hanno fatto? Si sono messi a ristrutturare, a ricostruire delle vecchie casette abbandonate che avevano nel loro paese e hanno deciso di ospitare i profughi. Quindi hanno detto ai profughi venite nel nostro paese che vi ospitiamo noi, sono stati generosi, però hanno dovuto usare i soldi che avevano messo via per fare la chiesa. E di nuovo hanno ricominciato a risparmiare per costruire la chiesa, ma tutte le volte quando sono riusciti a mettere via un po' di soldi sentivano parlare di un'altra disgrazia. E ogni volta i contadini del paesino offrivano tutti i loro risparmi per aiutare quelle persone in difficoltà. Non abbiamo la chiesa, dicono, però stiamo bene nel nostro paese, siamo come una grande famiglia. Sulla piazza dove un giorno si costruirà la chiesa giocano i bambini. Ma una chiesa bisogna averla, dice Luca. Sai, la parola chiesa indica due cose. Chiesa può significare l'edificio in cui si celebra la messa, ma anche la comunità degli uomini che credono in Dio e in Gesù Cristo. Che cosa è più importante, chiede Luca. Lo sai da solo, rispondo. Naturalmente la comunità è più importante, capisce Luca. Lo comprende. Sai, Luca, anche la gente del paesino ha costruito una chiesa, ma non era fatta di pietre. No, la vera chiesa non è fatta di pietre, ma di persone, di uomini. Un edificio fatto di uomini, chiede Luca. Sì, così ci dice anche la Bibbia, va bene?